Ciao ragazzi, qua come sempre FedeTutorial e benvenuti in questo nuovo video dove oggi finalmente vi andrò a mostrare quelle che sono le mie cuffie Le cuffie che utilizzo ogni giorno sia per editare i miei video che per ascoltare musica da circa un mese, un mese e mezzo Beh, come avrete capito, secondo me sono veramente fantastiche, altrimenti non le userei Ma il punto forte è che costano veramente pochissimo In questo momento si trovano sotto i 70€ Quindi sì, con questo video spero di condividere con voi un ottimo affare E quindi mi raccomando, se vi serviva proprio in questo momento un paio di cuffie come questo, iniziate subito a lasciare un bel like per ricambiare del favore Ma non perdiamo tempo e iniziamo subito Beh, iniziamo subito dal nome, sono le Status CB1 Se non avete sentito mai prima d'ora il brand, non preoccupatevi, non lo conoscevo nemmeno io e anzi, l'ho scoperto veramente per caso Stavo cercando una cuffia ad editing video, appunto per il mio canale E la prima che trovate su Amazon è proprio questa, la Status CB1 Inizialmente vi dico la verità, una volta visti 69€ ho detto Ok, questa è una cinesata, sicuramente fa schifo, non la compro E per fortuna non l'ho fatto Mi sono messo un po' a cercare delle informazioni riguardo le cuffie e soprattutto riguardo il brand, veramente sconosciuto E mi è piaciuta tantissimo la loro filosofia, anzi è quasi forse il brand migliore sotto questo punto di vista Perlomeno uno dei pochi del genere che conosco E il loro slogan è Non logo, no celebrities, just sound Wow Questo racchiude un po' il loro pensiero e vi fa capire perché le cuffie costano così poco ma sono così eccellenti Come vedrete anche successivamente non c'è nessun logo, non c'è niente Il brand vende solamente online, piccola parentesi, se ve lo state chiedendo no, non è un video sponsorizzato, non mi hanno chiamato, le cuffie le ho comprate tranquillamente E quindi vi sto dicendo semplicemente la mia onesta opinione Beh giustamente volevo dirvelo perché magari alcuni di voi se lo stavano domandando Il brand stavo dicendo vende solamente online e investe veramente pochissimi soldi in pubblicità Tutti i loro guadagni, tutti i loro sforzi sono focalizzati sul sound, quindi sulla qualità delle cuffie Sicuramente questo ci metto la mano sul fuoco è la miglior cuffia sotto i 100 euro Magari ce ne sono anche altre belle ma questa è fenomenale E quindi questo prezzo di 69 euro è abbastanza giustificato Però prima che facciate i salti di gioia, no, questo brand non vi regala l'oro a un poco prezzo Ovviamente hanno dei difetti anche queste cuffie giustificati lo stesso dal prezzo Ma anche tantissimi vantaggi e ve le andrò a dire tra poco Innanzitutto direi di partire dal packaging, anche questo fatto veramente bene Mi è piaciuta veramente molto questa sfumatura con la scatola delle cuffie, con disegnate le cuffie E una volta aperto le troviamo già all'interno, eccole qui impacchettate molto molto belle La colorazione dei padiglioni come vedete è di colore oro Un oro abbastanza chiaro, molto simile a quello degli iPhone E il resto invece è tutto nero Oltre questo all'interno della scatola troviamo due cavi jack Uno intrecciato quindi molto più comodo da trasportare Mentre un altro lunghissimo di 3 metri da usare in tutte le altre occasioni C'è anche un adattatore per il jack stereo se servisse ma nel mio caso non l'ho mai usato Beh la prima cosa che notiamo ovviamente è che sono fatte completamente in plastica Ma questo ci sta, per quel prezzo non possiamo chiedere chissà cosa Ma è una plastica parecchio resistente, come vedete posso veramente aprirle quanto voglio Mi sono cadute più volte, quindi sì sono una brutta persona Però sono ancora intatte perfettamente, non hanno nessun graffio E quindi è una plastica ma una plastica di buona qualità I padiglioni auricolari sono veramente comodissimi Ma soprattutto molto molto soffici Già premendoli solamente con il dito avete una grandissima sensazione di comodità Il design quindi eccolo qui A me piace tantissimo perché è veramente minimalista A me personalmente dà una sorta di professionalità, pulizia e qualità allo stesso tempo Non ci sono loghi brutti, loghi strani, tanti colori Questo oro che sinceramente sta benissimo un po' dappertutto E quindi riguardo questo sono pienamente soddisfatto Ovviamente può piacere o no Un altro punto in cui peccano leggermente è che non c'è una custodia per il trasporto È possibile sì piegarle, fare in modo che occupino diciamo meno spazio possibile Però non c'è nulla del genere all'interno della scatola Ma alla fine non so voi ma secondo me sinceramente Se l'hanno fatto per abbassare ulteriormente il prezzo va più che bene Beh ma una volta messe come sono? Sono comodissime, veramente molto molto comode Non sentite né il peso delle cuffie né vi stringono troppo sul viso Anche perché tutti quanti i punti in cui la vostra testa tocca con la cuffia Sono ricoperti da questo materiale veramente molto molto morbido Sia sui padiglioni appunto che nel pezzo sopra della testa Io sinceramente per quanto le ho usate anche 3-4 ore di fila non mi hanno dato nessun problema Poi questo credo che dipenda anche un po' dalla forma del viso e altri fattori Però le ho provate invece anche con degli occhiali e in quel caso sono abbastanza scomode Appena messe in realtà non sentite nessuna differenza Non sembra che avete gli occhiali, non vi dà nessun fastidio Dopo un po' circa una mezz'oretta oppure un'oretta Sentirete come se gli occhiali schiacceranno in un certo senso sul vostro viso E vi darà abbastanza fastidio E in quel caso ho deciso di togliermi semplicemente gli occhiali e rimanere senza Però in questo caso io posso fare a meno perché non porto gli occhiali Sono degli occhiali anti luce blu per quando suono al pc Mentre se non potete fare a meno beh a quel punto forse vi darà abbastanza fastidio Portare queste cuffie sul lungo periodo Sì vede ma non c'è ancora detto la cosa fondamentale Come caspita suonano queste cuffie Beh il suono come vi ho detto è il migliore a quel prezzo Veramente il migliore Sono cuffie come vi ho già detto da studio, da editing Quindi se siete amanti dei bassi potentissimi queste cuffie non fanno per voi Quindi sia alti che bassi che medi sono perfettamente bilanciati E nessuno sovrasta l'altro Quindi sinceramente sono consigliate al 200% Se come me vi servono per magari editare video oppure editare audio Mentre se volete ascoltare musica secondo me sono comunque ottime Io ero molto molto curioso di provarle su canzoni che conoscevo a memoria Che praticamente ascolto 5-6 volte al giorno Sì lo so sono matto E l'ho sempre fatto in maniera diciamo casual con le mie magari airpods Utilizzando invece queste status CB1 La primissima cosa che ho notato Sono tutti i mini particolari delle canzoni Che prima veramente non notavo Cioè su qualsiasi canzone ho scoperto 3-4 suoni nuovi Che non sapevo nemmeno che ci fossero in quella canzone Perché semplicemente non c'è la stessa qualità Non ci sono i stessi suoni bilanciati E quindi magari il suono del basso sovrasta appunto tutti questi piccoli suoni Che fanno comunque il loro effetto Quindi qui dipende un po' da voi In base a come vi piace ascoltare musica Ma se volete qualcosa di qualità Che vi permetta veramente di ascoltare il suono così com'è Senza variazioni Io vi straconsiglio le status CB1 Per il loro prezzo soprattutto Ovviamente ce ne sono tantissime altre migliori Ma in quel caso dovrete essere disposti a pagare molto di più O diciamo di più Io volevo fare una prova Perché mi sono sempre piaciuti i gadget che costano poco E vi danno tanto E sono davvero molto felice di averlo fatto Perché queste status non mi hanno assolutamente deluso L'unico fattore un po' negativo è che come vedete Sono molto grandi Cioè sono più grosse le cuffie che la mia testa quasi Però questo comunque alla fine aiuta anche a cancellare un po' di rumore esterno Essendo cuffie over ear ovviamente già sono abbastanza isolate Non c'è ovviamente nessuna cancellazione attiva del rumore Per quel prezzo sarebbe assurdo Però una volta messo ovviamente isolano abbastanza Quindi sentite che siete già in un altro mondo Però riuscite ancora a sentire abbastanza bene tutti i rumori esterni Poi invece se fate partire un qualsiasi brano A quel punto non sentirete più nulla Per tutti quelli che le volessero acquistare Oppure anche per tutti gli audiofili che volessero qualche informazione tecnica in più Io lascio il link di Amazon qui sotto in descrizione dove le ho acquistate io Vi basta cliccare lì e le potete ordinare attualmente a 69 euro Sono davvero un affarone non so più che dirvi Detto questo io spero come sempre che il video vi sia piaciuto e vi sia stato d'aiuto Se così vi invito a lasciare un bel mi piace Ed iscrivervi soprattutto al mio canale Mi farebbe molto molto piacere Vi ricordo di passare su tutti i miei social Soprattutto Instagram Trovate tutti i link qui sotto in descrizione E la cosa più importante di tutte Vi chiedo gentilmente di condividere questo video Dovunque con tutti i vostri amici Per aiutarmi a farmi crescere E detto questo da Fede Tutarele è tutto Noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video Noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video Ciao